Investimenti per 81 milioni di euro sui beni immobili è un progetto di lungo corso che proseguirà anche nel 2019. L'USDolomiti ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2018, indicando anche alcuni obiettivi futuri. Tra questi c'è di sicuro l'attivazione del volo notturno per l'eliambulanza, un'operazione inseguita da anni che ora si trova a tre stadi dal suo compimento. Innanzitutto occorre trovare un accordo con i comuni sulle piazzole. In questo senso la discussione è uno stadio avanzato con la previsione di 13 nuovi punti di atterraggio. Di questi 5 saranno nel Felterino, 2 nel Pago e 2 nel Lagordino. Completano la lista Longarone, Cimagogna, il Passo Falzarego e la piazzola trevigiana di Crespano del Grappa. Secondo passaggio, il nuovo contratto per i servizi di alisoccorso. L'accordo in essere scada il 31 dicembre e verrà prolungato con una proroga tecnica fino all'espletamento della nuova gara che sarà svolta in tempi brevi e includerà anche i voli notturni. Terzo step, il coinvolgimento della galassia del volontariato per mettere a regime il nuovo servizio. Ci dovrà essere chi si occupa dell'apertura dei cancelli, dell'accensione delle luci, dei controlli relativi all'eventuale presenza di animali selvatici nell'area di atterraggio. Non ci sono tempi certi, ma molto probabilmente sarà la gara per l'elisoccorso a definirli. Potrebbe avvenire a breve invece la giudicazione della gestione privata dell'ospedale Codivillaputti di Cortina, con il bando di gara prorogato fino all'8 gennaio. Per la struttura sono stati investiti quasi 600 mila euro per l'adeguamento delle centrali termiche, mentre è stata indetta la gara per i lavori di ristrutturazione e adeguamento da 39 milioni. A Feltre spiccano i lavori per 27 milioni per la nuova piastra operatoria, più altri due per lavori di adeguamento dell'ospedale e delle strutture periferiche.